Questa presentazione è una di quelle che io mostro volentieri davanti, quando inizio a fare questo tipo di corsi me ne capita qualcuno ogni tanto, non è stata fatta da me, ma l'autore appunto questo Thomas Lasic che collabora con l'università australiana, è un formatore studioso di e-learning dal variato tempo e secondo me ha presentato bene quelle che sono le caratteristiche principali di Moodle, per cui soprattutto essendo questo un corso base penso che vadano bene, siano ben spiegate e mostrate, per chi inizia adesso ad utilizzare questa piattaforma penso che possa dare un'idea concreta di quello che è la piattaforma stessa. Innanzitutto già qualcosa è stato detto appunto dalle colleghe che mi hanno preceduto, diciamo che Moodle è basato su questi principi essenziali, viene utilizzato prettamente da insegnanti e studenti e siccome impariamo molto guardando gli altri, Moodle sfrutta questo presupposto basando molte delle sue attività sulla collaborazione con i corsisti, su queste cose qui, con le attività sia sincrone che asincrone, si cerca appunto di l'interscambio di notizie e di informazione e quando l'ambiente di studio appunto è flessibile come questo di Moodle, i risultati non tardano ad arrivare o ad ottenerli. Quindi queste sono delle buone idee per iniziare a parlare di Moodle e come già stato detto sia il significato della parola nome sia quello del verbo hanno un significato che è basato appunto sulla grande interazione tra docente e studenti e soprattutto anche tra gli studenti stessi c'è la possibilità di interagire e di imparare di più. Quindi il collega diciamo australiano ha prodotto queste slide immaginando al famoso gioco dei mattoncini Lego per mostrare, far capire come funziona un po' la piattaforma. La piattaforma è quella base sulla quale andiamo a inserire i nostri mattoncini, ecco qui, i mattoncini su questa piattaforma possiamo inserire molti elementi all'interno dei vari corsi che possono essere creati. Le attività o gli elementi che possiamo andare a inserire sono pezzetti di script, sono delle cose che riescono a implementare nuove funzionalità tramite il caricamento di moduli, risorse, plugin, blocchi, filtri che impareremo a utilizzare poi durante questo corso. Quindi si tratta di prendere in buona sostanza l'elemento che ci serve e andarlo a piazzare nel punto in cui ci serve appunto utilizzarlo, nel punto e nel momento in cui ci interessa utilizzarlo. Le quattro cose più importanti che noi riusciamo a fare sono il deposito di file, di notizie, di immagini, quant'altro possa servire per lo svolgimento del corso, la comunicazione, la valutazione, la collaborazione. Questo elemento lo troveremo sempre più spesso quando parliamo di Moodle perché l'attività collaborativa all'interno della piattaforma è proprio alle basi dei presupposti che muovono appunto tutta la filosofia di funzionamento di Moodle. I mattoncini sono di diverso colore a seconda delle attività di cui andiamo a parlare, in questo caso appunto il deposito di file o di altri elementi che possono servire all'interno del corso e vedete che possiamo creare pagine web, creare cartelle in cui andare a mettere elementi, creare database, etichette, portofoglio di immagini o di notizie o di altre cose oppure andare a creare un elenco di link e oggetti di Learning Management System. Qui vengono spiegate ancora meglio, quindi possiamo immagazzinare qualsiasi tipo di documento ma anche multimediale, pensiamo a filmati, pensiamo a qualsiasi tipo di formazione, possiamo immaginare, sono quelli più diffusi, sono tranquillamente gestiti dalla piattaforma, possiamo costruire e organizzare cartelle, costruire un archivio ricercabile di dati tramite il database e quindi proporre ad esempio agli studenti di creare un archivio di dati nei quali poi tutti gli altri possono arrivare a gestire lo sviluppo del corso, delle nozioni che devono essere apprese. I tempi sono abbastanza ridotti in tutta questa gestione perché è molto semplice, lo sviluppo, così come è stato pensato nel tempo sin dall'inizio della versione 1.0 di Muntal, è rimasto pressoché immutato, ha un andamento a blog, quindi si sviluppa nel tempo e nello spazio in maniera verticale e non è fatto con menu di navigazione per cui a un certo punto si perde l'orientamento e non si sa più dove ci si trova. Vedrete che è molto semplice arrivare a utilizzare questi oggetti, anche chi lo utilizza per la prima volta in genere non ha grossi problemi. La comunicazione invece avviene tramite forum, messaggi che possono essere anche privati, il calendario, la gestione degli RSS, quindi le notizie prelevate in tempo reale da altri siti, i dialoghi, le chat room, quindi ci sono sia elementi sincroni che asincroni e poi altri che si possono implementare di terze parti, che non sono presenti nell'installazione base, ma che possono essere implementate anche in un secondo momento, quindi tutto questo rende anche la comunicazione molto semplice, viene favorita come vi dicevo quella tra corsisti. Le possibilità che possono essere appunto di comunicare sono queste che trovate elencate su questi mattoncini. Ricordo anche che questo slide, nel caso che a qualcuno interessasse magari vederlo con più calma, poi verrà inserito tra i vari materiali presenti sulla piattaforma all'interno del corso, quindi lo potrete anche scaricare. La collaborazione invece, che è quella più importante, come vi dicevo, avviene tramite i blog, il wiki, la creazione di un glossario che può essere fatta a più mani, quindi non viene creata come nei glossari classici in cui c'è il webmaster che prepara il glossario e poi ce lo si trova già belle e pronte. È un'attività proprio collaborativa che può essere sviluppata e sottoposta un po' a tutti. I soliti forum, laboratori, le lezioni che sono anche interattive, quindi ci si spiega un certo argomento, poi alla fine c'è la possibilità di fare un test, se si risponde correttamente si può andare avanti oppure si viene rimandati automaticamente in altre parti per ripassare le parti che non sono chiare. Quindi c'è parecchia interazione in tutto questo. C'è la creazione dei database, come dicevo, e anche ovviamente il social network è un po' l'idea che ha mosso il programmatore inizialmente Martin Dowjamas, mi pare si chiama, che ha mosso l'idea di creazione di questa piattaforma, proprio di creare un ambiente social network prima maniera, prima ancora magari che nascesse quello che tutti utilizziamo attualmente. Le idee di collaborazione che possono essere fatte permettono ad esempio agli studenti di parlare delle loro esperienze, di moderare i dibatti, di guidare le discussioni e quindi presentare informazioni tagliate sulle necessità reali del corso, quindi in relazione ai corsisti che frequentano il corso stesso e c'è la possibilità di creare, memorizzare, di assunti, foto, recensione, libri praticamente non ci sono limiti alle possibilità che possiamo sottoporre alla nostra creatività didattica e possiamo sottoporre ai nostri corsisti tramite quiz, le scelte, le scale di valutazione, la visione globale, le votazioni, quindi compiti, voti. C'è un'enormità di, probabilmente forse non si riusciranno a mostrarle tutte, proprio perché c'è una vastità di elementi però nel caso dovessero servire, nel momento in cui ci dovessero servire, ovviamente andarli a reperire, trovare, sarà tutto sommato abbastanza semplice perché capita la dinamica e la filosofia di funzionamento di Moodle, poi tutti gli altri ambienti funzionano più o meno allo stesso modo. L'ultimo appunto mattoncino che possiamo andare ad utilizzare permette quindi la creazione, quello della valutazione che ci permette di andare a creare moduli di valutazione estremamente particolari oppure di utilizzare scale di valutazione personalizzate, questo permette di adattare, è molto scalabile Moodle, quindi ci permette di andare di adattare la nostra piattaforma in rapporto alla platea che abbiamo davanti. Bene, quindi possiamo avere tutti i mattoncini che vogliamo senza limitazioni e alla fine in buona sostanza possiamo, si tratta solo di saper coordinare tutti questi elementi per fare in modo che non diventino poi un'accozzaglia di cose disordinate, quindi la bontà poi del coordinatore o del tutor del corso che porta avanti il corso, il docente che porta avanti il corso è quello poi di saper proporre tutti questi mattoncini in maniera estremamente ordinata. L'organizzazione è essenziale poi per qualsiasi necessità educativa ed è scalabile in rapporto al fatto che vengono utilizzati magari dei corsi per bambini piuttosto che per classi di scuole superiori o universitarie, quindi è tutta un'organizzazione che parte dall'amministratore della piattaforma, poi passa ai docenti che possono svolgere il proprio lavoro all'interno del corso e inserire attività e svolgere il corso stesso, quindi gli studenti che possono ovviamente solamente subire tra virgolette il corso ma interagire con esse nelle parti che sono interattive. Gli ospiti, se è possibile ammettere anche gli ospiti, possono venire a dare un'occhiata ma hanno scarsissime possibilità di movimento, ovviamente non possono interagire con tutto il resto delle persone che sono all'interno. Eventualmente all'interno di una scuola, vedete qui in basso, si possono stabilire permessi particolari perché una delle cose più sfiziose di Moodle è proprio quella di andare a rassegnare permessi personalizzati all'interno di una sola persona, magari una sola persona che debba fare un certo tipo di lavoro, ci si può assegnare un permesso particolare per svolgere solo quella funzione e nient'altro. Alla fine il docente può vedere tutto quello che fanno gli altri, rivedere tra virgolette perché chiaramente l'attività viene monitorata di ciascun corsista, qualsiasi click dove va, le azioni che svolge, i compiti che fa, quindi è possibile andare a controllare nel minuto tutte le sue attività e c'è un log abbastanza sostanzioso che è possibile richiamare e visualizzare proprio per avere alla fine un report complessivo dell'attività dell'alunno, del corsista in maniera tale da poter assegnare anche una valutazione che sia congrua. Tecnicamente io ho sorvolato abbastanza velocemente quello che sono il numero delle slide perché mi occupo più della parte tecnica di questo corso, con me farete la prima parte che è quella dell'installazione, vedremo come installarlo sia su un server locale che su un server remoto, risponderò alle vostre domande ed eventualmente alle difficoltà tecniche che potrete avere durante l'installazione di una propria piattaforma e se ancora non avete un sito, un dominio o una cosa vi invito ad acquistarlo quanto prima proprio perché fare un corso e non lavorare praticamente poi su una piattaforma significa poi nei tempi brevi perdere tutti i vantaggi di aver seguito appunto un corso del genere. Sulla piattaforma troverete tutte le informazioni e poi ho preparato anche dei filmati per cui vedrete praticamente come fare le operazioni più essenziali e più tecniche. Per tutto il resto del corso invece si occuperanno appunto Laura e Virginia, vi seguiranno per tutta la parte di produzione diciamo delle lezioni e di tutto quello che è la gestione poi pratica e didattica della piattaforma. In chiusura diciamo che Moodle è praticamente come dicevo estremamente scalabile per cui oltre a essere utilizzato in tutte le lingue è utilizzato da scuole sia dalle elementari praticamente alle grandi università e l'autore che è appunto Martin Dowjomas che in Australia vanta ormai milioni di studenti è un sito il più grande in assoluto di Moodle con 200.000 utenti come vedete che per una piattaforma come questa open source è gratuita è veramente un numero enorme, esorbitante ma questo a dimostrazione della solidità del software proprio che andiamo a utilizzare. Insomma in poche parole non stiamo perdendo tempo, questo è il succo del discorso. In Moodle chiaramente è libero, non si paga nulla per utilizzarlo e quindi ovviamente per tutto quello che sono le domande ci potrete poi interpellare, ci potrete mandare delle mail o utilizzare i forum ci sarà un forum tecnico per ogni sezione del corso e quindi vi invito ad utilizzarlo senz'altro vi risponderemo appunto per tutte quelle che sono le vostre esigenze. Via!